Abbiamo messo le piantine nell'orto e nel giro di 24 ore sono ridotte così, mosce, flosce. Non sappiamo se si riprenderanno o meno, ma sicuramente sì. Questo è lo stress dal trapianto. Ve ne parlo adesso dopo la sigla. Allora, sia che abbiate coltivato le piantine dai semi, come ho fatto io, sia che le abbiate acquistate nelle vaschette, se le mettete a terra senza alcuni accorgimenti, non succede nulla, 9 su 10 si riprendono, però per non vederle così, con pochissimi accorgimenti possiamo evitare questo stadio che si chiama stress trapianto ed avere delle piantine come questa. Guardate, è piccola, è vero, però guardate che foglie. Tutte queste piantine che vedete qui le ho trapiantate ieri, alcune stanno soffrendo, altre molto meno. E questo perché non ho seguito la stessa tecnica sia per l'una che per l'altra. Adesso vi spiego il motivo. Sono alle spalle della proda, che avete visto un secondo fa, e queste sono le altre piantine da mettere a dimora. Ora, sostanzialmente, sono due i problemi che portano allo stress della piantina. Trapiantare piantine che non abbiamo correttamente innaffiato il giorno prima, abbondantemente anzi direi, e la stessa innaffiatura va fatta poco prima del trapianto. Vedete, questa è inzuppata d'acqua. Io l'ho bagnata a fondo ieri, tanto che colava l'acqua di qua. Sapevo che oggi avrei dovuto trapiantarla. Ho rifatto lo stesso trattamento, con l'abbondante acqua, oggi. Quindi questa è pronta per il trapianto. Questa, così come è, vedete, sono tre piantine. Ora, queste due le lascerò da sole. Questa la trapianterò da parte. Se io non toccassi il pane di terra, cioè prendessi la piantina e la mettessi direttamente nel terreno, questa non soffrirebbe assolutamente nulla, neanche se ne accorgerebbe. Ora, dal momento che devo dividere le radici, lo stress del trapianto, a prescindere dall'acqua che le abbiamo dato, ci sarà comunque. Ed è ciò che è successo ieri, con quasi tutte le piantine grandi che vedete. Questa, ad esempio, che è da sola, è diventata fin troppo lunga, si sta piegando. Ha ricevuto, ovviamente, un'abbondante innaffiatura ieri, una questa mattina, e adesso siamo pronti per trapiantarla. Questa, ovviamente, tirerò via il pane di terra così com'è. Ecco, guardate. Questa la metterò a dimora. Non si accorgerà neanche di quello che è successo. E questa rimarrà bella, come quelle che avete visto poc'anzi. Va da sé che le piantine, quelle acquistate, dove ce n'è una per ogni alveolo, basta bagnarle bene il giorno prima e il giorno della messa a dimora, e loro non soffriranno per niente. Se le facciamo per noi, ecco qua ce n'è un'altra, vedete, ce ne sono due belle, non posso lasciarle insieme. Dal momento che andrò a dividerle, romperò il pane di terra, e loro soffriranno un po'. Un altro piccolo trucchetto per far sì che loro soffrano meno dello stress da trapianto è quello di farle ambientare, nel senso di metterle nell'orto a dimora, lì dove dovrete poi posizionarle definitivamente, un paio di giorni prima, un giorno prima, in modo tale che loro si ambientino. Sembra una sciocchezza, però, ad esempio questo, per quanto sia brutto questo basilico, che l'ho salvato, lo volevano buttare e quindi me lo sono portato a casa, sono convinto di riuscire a salvarlo, chiusa parentesi, per quanto sia strana questa cosa, sappiate che se noi tiriamo fuori da un ambiente protetto, queste erano addirittura in casa ancora, mentre tutte le altre piantine come questa erano in serra, sono abituate a un certo clima, a un certo tasso di umidità. Portarle direttamente nell'orto, così all'improvviso, potrebbe anche questo dar loro fastidio, quindi lasciarle qui all'aperto per uno o due giorni, gli fa soltanto bene. Nel frattempo sono andato avanti un po', col lavoro, vedete, ho intervallato il basilico, e anche questo, dal momento che ho dovuto separarlo, sicuramente domani me lo troverò a floscio. Allora ne approfitto per dirvi un po' cosa si fa in queste situazioni, ovvero come si rimedia questo problema. È semplice, non ci sono altre cose da fare, vi spiego. Bisogna tutti i giorni dare dell'acqua, non con l'irrigazione a goccia, io non lo faccio mai per i primi giorni, perché ne sprecherei tanta, in quanto mi andrebbe su parti dell'orto dove ancora non ho coltivato niente. Vado direttamente con la pompa, con il getto a doccia e innafio seriamente le piantine, vi faccio vedere. Come vedete, non risparmio acqua in questa fase, questa fase dura 3-4 giorni, non di più. Certo, se adesso venisse a piovere sarebbe la cosa migliore. Ecco, come vedete, gliel'ho andata in modo abbondante. Approfitto anche del resto della pacciamatura che è rimasta del telo di juta, vi lascio qui la copertina del video, questa è dello scorso anno. Non ho voluto buttarla perché, anche se è un po' sfilacciata, è ancora molto bella lì dove mi serve, quindi ci farò un'altra stagione, lì dove ovviamente avrò dei buchi, metterò la paglia, ma il grosso della pacciamatura la farò con appunto il telo di juta anche quest'anno, almeno in questa proda qui. Come vi dicevo, 3-4 giorni di irrigazione abbondante come ho fatto io. Se c'è la pacciamatura è meglio, perché l'acqua rimane un pochino più nel terreno senza evaporare subito. e vedrete che nel giro di 3-4-5 giorni, se il trapianto è stato fatto correttamente, le piantine verranno su e si riprenderanno, come questa qui. Eccola, anche questa è la trapiantata ieri, ha sofferto poco. Sono passate circa 48 ore dalla fase del trapianto e queste sono proprio quelle piante che ho preso come esempio per lo stress. Nel frattempo ha piovuto per tutta una notte, nel frattempo ho lasciato fuori a prendere aria, come vi dicevo, per tutto questo tempo le nuove piantine e qui anche i fiori prendono acqua, va bene, stanno benissimo. Come vi avevo puntualizzato all'inizio, stanno tutte bene. Si sono riprese praticamente tutte. Ora, se non l'avesse piovuto questa notte, sicuramente sarei venuto a innaffiare, perché vanno innaffiate tutti i giorni abbondantemente. Eh sì, eh sì, va bene. Quindi non vi dovete preoccupare, se siete all'inizio di questa avventura nell'orto, di vedere piantine mosce o comunque giù di tonno dopo il trapianto, perché vedrete che nel giro di 24-48 ore, a parte i gatti, si riprenderanno completamente. Basta dargli acqua. È diventata una festa, ragazzi. Bene, è stato un video veramente semplice, molto veloce. Lo pubblicherò quanto prima, perché questo è il momento dei trapianti. Quindi ricordatevi, bagnate bene il giorno prima, bagnate il giorno dopo, lasciateli a dimora di dove andranno trapiantate per uno o due giorni. E se non toccate il pane di terra, che non dovete dividere le piantine, vedrete che queste non soffriranno assolutamente lo stress del trapianto. Spero che questo piccolo consiglio vi sia utile. Grazie per aver visto il video fino a questo punto. Lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale. Ci vediamo la settimana prossima.